e la puttana manco tempo di caricare un video per la mia gioia che successe dopo in poco va positivo a testosterone ecco cosa rischia ma semmeno ci siamo semmeno ci siamo il francese sarebbe stato trovato positivo a termine di un'eserio in su gara della prima giornata di campionato in cui non è sceso neppure in campo mamma mia veremo che si è aspettato un attimo testosterone cosa fa per un uomo sentiamo sentiamo vediamo il testo serone per un uomo vediamo vediamo la produzione di testosterone raggiunge il suo picco durante la pubertà nel coso dell'età adulta e che cazzo hai 80 anni ed è finalizzata la regolazione del desiderio sessuale e il mantenimento della massa muscolare hai capito poco papà di cini uri ce l'hanno brossa comunque ti posso darlo così freddi io 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 e ma magari 2002 2000 grandissimo 2000 2000 vale 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 rocco si freddi mio discepolo ha un e qua aspetta da verro così freddi ha Aspettate qua che chiude molte cose, aspetta un attimo Pogba! 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 Testosterone, ma che bisogno di un testosterone? A vero! Ho così freddo, grande! Io ho avuto 2.000 femmine perché? Ma io quasi indrego Senza l'aiuto! Per chi si vuole dare un ugalippo? Ma io sono cazzetone! Io ti squalifico! E' no piacere! E' no piacere! E' no piacere! Ne ho piacere, capito? Perché vedi? Tu con l'aiuto ti puoi fare cose sessuali, invece io niente, capito? Io duro, come ho visto a me femmine, duro ore, 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 ore senza niente Testosterone cosa ha? Testo! Senti, non ho così freddo! Porta a me all'accademia! Quello ha bisogno dell'aiuto! Non lo portare! Poi lo portare a Pogba! Allora fa una cosa! Porta a Pogba! A me e a Pogba! A tutte e due! Ma che sto qua! Questo qua è professionista! Questo qua! Io nell'ambito sessuale! Ma che sto qua! E' professionista! Pogba! Fattino! Comunque! Oh manco tempo! Oggi sono in vena di fare i video! Manco tempo di caricare una cosa mia! Minchia! Già subito! Ficcio 850 milioni da YouTube! Ma ne fallo pure subito! 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 Vergognoso! Veramente! Io ripeto! Pogba! Veramente è stato il male del ritorno! Di tutto! Preso! Rotto! Gioca! 10 minuti! Praticamente! Ha giocato 10-15 minuti in quanto? In un anno praticamente! Due o tre comparsi! Ma veramente di pochi minuti! Poi! Più! Tesosterone! Ora lo squilificano per antidoping! Giustamente la faccia ci mette a Juventus! Però stavolta la colpa è sua ragazzi! Io capisco! L'anti Juventino ha visto! Dopo! Sì! Però! Vabbè! Lasciamo perdere le altre! Partendo di Maratona! E finora di Facchiette! Quindi! Diciamo che qua non siete un esempio! Queste cose! Capito! Lasciamo perdere! Perché sennò faccio una lista! Di tutti dopate! Capito! Però! Parliamo di questo! Già siamo noi incasinati! Incasinati siamo! Mink! Ti ci metti pure tu! Tu che hai quella fase venuta eh! Poi vado a sciare! Shhh! 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 Mi sfutti pure! Guarda! Un giocatore più odioso di quello! Guarda! Vabbè! Quello è un altro lucazzo! Guarda! Anzi! Forse questo è peggio! Forse! Ma questo proprio no! Non gioca mai questo! Quindi! Ora la Juventus ci mettono la faccia! Ma Pogba! Ti piace quando mi sfuttano a me? Ti piace anche sfuttare la Juventus? Guarda! Io capisco! Che dice! Cosa c'è da gravina? Cosa c'è da ceferino? Hai visto che ci sei sempre voi? Quindi! Poi! Io devo dare ragione all'anti Juventino! All'anti Juventino! Devo dare ragione! Pogba! Capito? Pogba! 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 Se ne fa la sessuale! Testarone! Vatti! Testosterone! Vieni qua a spezia! Ti mangi i testarone! Testarone! Quanto è il testarone! Perché hai bisogno di mettere i velo per cosa è sessuale! Com'è? Una bisogno di manco io a 40 anni e tu sei più picciotto di me! Vergognati! Capito? Comunque! Non te lo chiamare mai quello! Guarda! Chiama a me! Vabbè! Non chiamare mai quello la! Guarda! Non chiamare mai quello la! Guarda! Che cazzo a fare! Chi riusciva in effetto all'Accademia! L'Accademia era in Ungheria! Capito? L'Accademia ci vuole fare il pornostale! Capito? Ma non tu! Ma non tu! Ma non tu! Chi fai? Perché tu hai bisogno dell'aiutino! Io non ho invece! Capito? A te! Vergogna di Pogba! Sei la vergogna! Vada! Con questa cosa che hai fatto! Meno male ti squalificano! Meno male! Così ci liberiamo! Ti squalificano! Rescind il contratto! Meglio così! Spariamo questi! 8! Spariamo 20 milioni di euro! Minimo! Minimo! Quindi! Meno male che è andata così! Meno male! Però! Ci ha messo la faccia anche la società Juventus! Va bene? Perché giustamente! Ora! Se tu stai andipendendo che capisci! Ti caccia! Dice! Ma in effetti è stato il giocatore! Cosa c'era la Juventus? Però! Di riflesso! Dice! Ha visto tutti i semi in mezzo? Sempre voi! Sempre voi! Sono fatto lo doppio! E sempre no! Ci siamo noi! Sempre no! Ma sempre non può essere! Comunque! Hanno fatto queste cose! I controlli ci stanno ragazzi! Quindi! Poco va! Ti auguro una buona squalifica! E spero che riusciti il contratto! Meno male! Rocco si è freddo! Non chiamare a lui! A me a chiamare! Ciao!